stando al wrestling observer l'infortunio al ginocchio ravvisato da bailey una decina larga di giorni fa non è grave tanto che l'atleta non ha avuto bisogno di stampelle ed è stata vista camminare con qualche fatica ma senza zoppicare per la fonte citata dunque la leader delle damage control dovrebbe avere tutte le carte a posto per la rivalità ormai imminente con la nuova e più imprevedibile sciozzi che da quando si è tagliata i capelli la presa di mira per vendicarsi del bullismo subito nelle settimane precedenti fightful ci informa che la scorsa settimana vince mcmahon ha subito una seria operazione alla colonna vertebrale un intervento importante durato ben cinque ore l'attuale azionista di maggioranza della wwe adesso è in fase di recupero in attesa di chiudere le pratiche della vendita della lega entro la fine dell'anno e ci risiamo sul web è uscito un video privato di matt riddle e della sua ragazza la porno star misha montana tra l'altro i due aspettano un figlio in atteggiamenti intimi espliciti molti siti che lo hanno pubblicato poi lo hanno rimosso forse intimati a farlo da un intervento legale per ora da dove saltino fuori queste immagini non si sa fatto sta che è l'ennesimo evento di cronaca che era meglio evitare e che alla lunga potrebbe avere delle conseguenze sulla carriera del wrestler l'era Grazie a tutti.